buongiorno e bentornato a questo secondo appuntamento del corso intraday sul nasdaq cominciamo ad approfondire un pochino la nostra conoscenza dello strumento entrando più nel dettaglio andando ad analizzare come si muove e di quanto si muove durante la sessione intraday il nostro future inizierei innanzitutto a chiarire che le sessioni di trading più più volatili quelle con il maggior numero di volumi sono la fascia pomeridiana quindi la fascia che coincide con l'apertura del mercato azionario cash americano quindi fra le 15 e 30 e le 16 e 30 ora italiana e poi c'è la fascia serale quella che porta fino alla chiusura del mercato americano che può andare dalle 19 e 45 alle 21 e 45 o dalle 20 e 45 alle 21 e 45 dipende molto dal contesto di mercato in cui ci troviamo da quanto il mercato sia volatile perché in fasi di mercato molto volatile può anche bastare una sola ora e la seconda ora della fascia serale è quella che spesso presenta le migliori opportunità e dove c'è volatilità maggiore in altri casi in cui c'è minore volatilità magari è richiesto un pochino di tempo in più al mercato in ogni caso avere due possibili orari in cui dedicarsi al trading permette a persone con esigenze lavorative familiari differenti di approcciarsi al mercato quando l'organizzazione della propria vita glielo consente meglio da un punto di vista statistico sono estremamente simili anche se la velocità di movimento nella fascia serale è un pochino minore passando ad analizzare il momento dell'apertura diciamo che cosa buona e giusta specialmente per chi è all'inizio in questa operatività lasciar passare i primi 5 minuti quindi dalle 15 e 30 alle 15 e 35 per cercare di capire che tipo di giornata sarà se sarà una giornata molto volatile poco volatile veloce lenta questa è una cosa che si acquisisce solamente con l'osservazione l'esperienza ma normalmente i primi 5 minuti sono quelli che possono presentare le sorprese maggiori soprattutto quando siamo in presenza di earnings delle grosse compagnie tecnologiche che possono causare movimenti imprevisti e molto forti molto maggiori della media statistica dei movimenti quando sono momenti rari questi tipi di movimenti accadono durante l'apertura poi vanno a marcare la direzione della seduta intera quindi è giusto tenerne conto e quando li vediamo cercare poi di adeguare il nostro stile operativo a quella che è la realtà del mercato in quel momento comunque fatte salve le eccezioni in condizioni di volatilità media e medio alta che sono le condizioni di volatilità ideali nelle quali si riesce a lavorare al meglio perché con volatilità bassa il mercato presenta poche occasioni con volatilità troppo alta e lo strumento diventa molto veloce e piuttosto illiquido quindi è difficile tradarlo con le dinamiche che andremo a vedere diciamo che nelle condizioni di volatilità media e medio alta che sono quelle che poi si verificano nell'80 85 per cento delle sessioni riusciamo ad avere in ogni sessione di trailing quindi nella fascia pomeridiana e nella fascia serale almeno tre o quattro movimenti degni di nota per poter considerare un'operazione che sono quelli che hanno un'estensione variabile tra i 15 e 25 punti e introduciamo ora il concetto di cavalcata dove per cavalcata si intende un movimento di una certa estensione nella stessa direzione quindi un movimento al rialzo di tot punti o al ribasso di tot punti e per poter considerare un possibile trade su inversione quindi contro la direzione nella quale il mercato si muove per quel certo numero di punti abbiamo differenti contesti di volatilità che coincidono con differenti distanze minime di definizione della cavalcata quindi abbiamo in un contesto di volatilità bassa cavalcate che devono essere di almeno 12 punti in media volatilità considereremo validi movimenti di almeno 15 punti in volatilità medio alta e considereremo validi movimenti maggiori uguali a 20 punti quando la volatilità diventa troppo alta soprattutto per chi ha poca esperienza e per chi è all'inizio con questo strumento e con questo tipo di operatività è meglio approcciarsi ad un altro strumento più liquido come può essere lo standard in purz oppure starsene fermi perché le occasioni non mancano e la carriera di un trader è ben lunga insomma non dobbiamo per forza operare tutti i giorni dell'anno quando le condizioni non lo consentono è meglio starsene buoni e fermi ora cerchiamo di vedere insieme come queste cavalcate vengono calcolate qui abbiamo due screenshot che tratti dal software che utilizzo per operare quotidianamente sul future dell'indice nasdaq dove si vedono due grafici con candele a 15 ticks quindi ogni candela ha una dimensione un'estensione fra minimo e massimo di 15 ticks e sono tutte della stessa lunghezza e questo ci aiuta come può aiutarci un footprint ad essere più precisi nel calcolo delle cavalcate ma soprattutto all'inizio si possono tranquillamente calcolare anche con un normale grafico a time frame un minuto quello che è importante è imparare a distinguere i movimenti che tra virgolette possiamo definire puliti e precisi da quelli che invece sono movimenti sporchi io qui ho evidenziato in queste due immagini una cavalcata rialzista di più di 15 punti in queste candele verdi che vediamo qui a destra della linea diagonale blu un movimento che va da area 47 fino a area 62 quindi che corrisponde al nostro requisito di almeno 15 punti di cavalcata e il concetto che voglio trasmettere è quello che la cavalcata deve essere un movimento direzionale continuo senza pause al suo interno perché se troviamo delle pause delle reazioni è meglio ricominciare il conteggio dal momento in cui poi il movimento riparte cioè la reazione dopo una certa distanza è probabile se il movimento che la precede è un movimento che non ha già subito troppe pause nel suo sviluppo quindi un metodo possibile di calcolo quello che utilizzo è quello di considerare per una cavalcata rialzista solamente candele di colore verde quindi se abbiamo 4 o 5 candele consecutive verdi il movimento può considerarsi valido stessa cosa al ribasso come vediamo in questo esempio al di sotto fra area 7.980 e 7.965 la cavalcata è da considerarsi valida perché al ribasso abbiamo tutte candele di colore rosso quindi non ci sono reazioni prima dell'estensione fino a 15 punti come dicevamo poc'anzi all'inizio e può andar bene per il calcolo della cavalcata un normale grafico a un minuto a due minuti è chiaro che se poi si vuol far diventare il trading una una professione a tutti gli effetti è necessaria una maggior precisione quindi è necessario l'utilizzo di strumenti più avanzati che ci consentono di vedere ai raggi x ciò che accade all'interno del mercato come può essere un footprint o il grafico a 15 tics che vedevamo prima che ci consente di vedere in maniera migliore anche i più piccoli dettagli e all'interno dei nostri percorsi dell'intraday club troverai un foglio excel con tutte le statistiche dei movimenti medi dell'indice nasdaq grazie al quale potrai effettivamente toccare con mano quello che è il vantaggio statistico di effettuare delle operazioni dopo movimenti delle ampiezze che abbiamo visto grazie e al prossimo video